C'è un pretesto ovviamente per la discussione di oggi, Tiziano Terzani prese un premio, il bambino permanente, in qualche modo nei suoi libri torna spesso questa ricerca del bambino interiore, tutta la vita della sua famiglia era stata anche segnata da un ricominciare continuo, da vedere nuovi paesi, nuove culture, quindi anche un riscoprire le cose esattamente con l'atteggiamento con cui lo facciamo noi stessi quando siamo bambini, però è un pretesto che io vorrei non dico liquidare ma affrontare molto rapidamente, perché oggi abbiamo una grande occasione secondo me che è quella di non celebrare Tiziano Terzani per l'uomo eccezionale che è stato, ma di capire perché Tiziano Terzani è necessario con i suoi strumenti per capire quello che sta avvenendo adesso nei nostri giorni, quindi non parlare di Terzani soltanto come colui che ha fatto il Vietnam, la Cambogia, la Cina di Mao, ma anche come colui che facendo quelle cose e raccontandole come giornalista e come uomo che ha cercato soprattutto la verità, ci ha dato anche degli strumenti, ne parlavamo prima pensate alle sue lettere contro la guerra, a quanto ha capito prima degli altri cosa sarebbe avvenuto con l'Islam, a quando ha raccontato la distruzione delle statue comuniste che avevano caratterizzato tutto il blocco sovietico, ma anche la Cina di Mao, al grido di Al-Aqbar, quindi uno che aveva visto molto prima le cose di cui oggi stiamo parlando e di cui misuriamo gli effetti è qualcuno che può esserci estremamente utile per capire la contemporaneità. La prima domanda è quasi retorica, però la sua risposta non ce la può dare nessuno. Chi è stato Tiziano Terzani? Non è una domanda da poco chi è stato Tiziano Terzani, mi chiedo se lo sapesse lui, comunque comunque ci si prova. Allora lui si definiva come un fiorentino, cioè come un uomo basato con i piedi in terra, sempre critico, sempre scettico, sempre dubbioso che gli altri abbiano detto il vero. In più aveva una qualità che forse non è tanto dei fiorentini, ma è un po' disseminata in qua e in là, che era la capacità di meravigliarsi, la curiosità, la curiosità per qualsiasi cosa nuova, altra, che non è dei fiorentini perché loro sono contenti di Firenze così com'è, ma lui no. Lui voleva vedere il mondo e voleva arricchirsi, attraverso le esperienze del mondo, degli altri. È abbrigato, è nato da una famiglia molto semplice di operai e abbrigato tutta la vita e soprattutto durante la sua giovinezza per arrivare, prima di tutto, a capire in che modo volesse vederlo questo mondo. E quello di fare giornalista era un sogno che all'epoca era praticamente irrealizzabile. Se non conoscevi qualcuno, se non facevi parte di una delle famiglie importanti, insomma, no, non si faceva giornalista. Per cui, pur avendo fatto per qualche anno il giornalista sportivo a Firenze, al mattino di Firenze, non l'ha mai preso in considerazione. Invece ha studiato legge allo scuola normale di Pisa e soprattutto si è coltivato. Devo dire che Tiziano, io l'ho conosciuto a 19 anni, prima che andasse all'università e prima che ci andassi anch'io, non faceva altro che leggere, studiare, imparare le lingue, si teneva pronto. E questa è forse una delle prime lezioni importanti per un giovane oggi. Si teneva pronto per qualsiasi cosa succedesse. Sapeva già il francese, imparò il tedesco, l'inglese. Come per dire, se qualcosa capita, io posso coglierla. Non sono sproveduto, non sono qui a aspettare che qualcuno mi dica vieni a fare questo o quello. Me lo andrò a cercare. Questo è poi rimasto sempre il suo atteggiamento da tre libri che avevano nella sua famiglia e altri rilegati da uno zio rilegatore che gli regalava le rilegature a Tiziano. Aveva le rilegature bellissime, sembrava essere una biblioteca. Insomma, da quel vuoto lì è arrivato ad avere una biblioteca di almeno diecimila volumi, molto ricca, preziosa su tutta l'Asia, su molto mondo anche occidentale che poi abbiamo regalato alla Fondazione Cini. È uno che si è fatto completamente da solo, ma senza dare l'impressione della grande fatica, dello grande sforzo di essersi esaurito, ma di un grande divertimento. Tiziano era sempre entusiasta di qualcosa, aveva sempre scoperto qualcosa, si era messo su delle piste nuove e aveva, direi, un particolare senso dell'unicità della vita, no? Che ne aveva questa sola e che di questa sola doveva in qualche modo fare il massimo. Aveva il senso della preziosità dell'occasione di essere al mondo e questo lo ha fatto appunto guardare con grande consapevolezza a tutto quello che succede. Dalla politica naturalmente all'epoca, questi erano gli anni 50, lui è nato nel 38 per cui ha fatto l'università negli anni, i primi anni 60, fine anni 50. Il mondo era di sinistra, la cultura era di sinistra, per cui la politica era importantissima dopo la guerra persa, vinta, persa, come era un disastro in tutti i modi, la seconda guerra mondiale. E allora lì c'era questo senso che ora si poteva fare un mondo nuovo. I ragazzi, devo dire, pensavano, gli studenti pensavano in grande parte di dare mano alla formazione, alla creazione di questo mondo nuovo. Mentre oggi la tristezza mi sembra è che nessuno ben vede dove possa dare mano e come possa dare mano. Sembra già tutto fatto e fatto anche male per tanti sensi. E allora ognuno pensa per sé. La bella cosa all'epoca era che non pensavano per sé, pensavano ancora per il paese, per l'Italia, l'Italia. C'era un idealismo che ha aiutato molto anche Tiziano. Io lo dicevo prima ad Angela, come credo, non credo tutti, ma molti di voi, a un certo punto ho iniziato a leggere Terzani in un modo quasi violento, cioè l'ho letto tutto, in blocco. Ho guardato la vita di questa persona con un'ammirazione impressionante, di cui spesso in realtà ho guardato anche con ammirazione, lo dico, anche con un po' di commozione. Per me è un momento complicato perché per me la signora alla mia sinistra è sempre stata una foto, di queste foto stupende, di questi due ragazzi alla Columbia University, bellissimi, sognatori, che sono stati in grado di mettere l'amore davanti a tutto ma di non limitarsi reciprocamente, una storia di libertà nel volersi bene, tutte cose rarissime, intendiamoci, no? C'è questa frase simpaticissima che magari poi ci ridirà lei in cui le sue amiche le dicevano ma come hai fatto a stare dietro tutta la vita a tuo marito? Lei dice per tuo marito non l'avrei fatto neanche io, no? Cioè, come dire, dà la cifra delle persone straordinarie che entrambi sono state. Però c'è un momento anche di serietà in questa cosa, cioè spesso la gente ha letto gli ultimi due o tre libri di Tiziano Terzani, Un indovino mi disse, Un altro giro di giostra, Il dialogo col figlio, che poi è diventato anche un film, che tra l'altro, curiosità, è girato nella loro vera casa. C'è Folco che racconta appunto di questi tedeschi che gli invadono casa, sarà stato abituato, no? Ecco, che con la loro troupe si inseriscono all'interno della loro vita. E poi invece c'è quasi un buco sul primo Tiziano Terzani, che io non scenderei, ne abbiamo parlato prima e qui arrivo la domanda. Cioè in fondo Terzani è un uomo che ha cercato la verità, sempre, l'ha cercata da cronista di guerra, anzi da cronista di pace quasi mi verrebbe da dire, l'ha cercata in Vietnam e poi l'ha ricercata probabilmente in Himalaya, l'ha cercata in due modi diversi, o forse in uno solo, ma che funzione ha in qualche modo? Ricordarci soprattutto che suo marito è stato un grande giornalista, un vero giornalista. Vuoi che io racconti questo? Sì. Allora, non so, fare il giornalista, uno non sa, pensa che sia anche quello. Non ci sono scuole di giornalismo, uno va, adesso ci sono, ma Tiziano diceva che non servono a niente. Nel senso che lui diceva che serve, per essere un buon giornalista bisogna essere uno che conosce la storia, la politica, la geografia, che conosce il passato, che è una cosa complicata, ma non si può impararla, bisogna avere la passione e naturalmente bisogna anche saper scrivere, ma la cosa più importante è probabilmente quella di una cultura generale. Allora lui, quando è arrivato in Asia finalmente, lui aveva già fatto 5 anni all'Olivetti perché nella incertezza di cosa fare e anche nella povertà, nel non avere nessun soldo dopo l'università, si è fatto assumere dall'Olivetti e lì abbiamo fatto 5 anni e noi ci siamo sposati molto giovani, a 22-23 anni. Abbiamo fatto 5 anni all'Olivetti, interessantissimi, mandati da tutte le parti del mondo qui a Ivrea e da Ivrea ci hanno mandato, lo hanno già subito mandato perché avevano riconosciuto che aveva questo interesse per i paesi altri. E poi finalmente è arrivato, per diverse combinazioni molto fortunate e anche molto dovute a lui stesso, è arrivato a trovarsi un lavoro al settimanale tedesco Der Spiegel. Io sono tedesca, ma devo dire che non ho avuto assolutamente niente a che fare con questa assunzione, lavorava per il giorno di Milano e aveva fatto una seconda laurea in America, aveva imparato il cinese, per quanto voglio dire, non benissimo comunque, aveva due lauree e ha chiesto al direttore di andare, che lo mandasse in Vietnam, a vedere, e a osservare la guerra in Vietnam perché questa è la grande causa della nostra generazione, no? Il piccolo Vietnam che combatteva la grande America, la fortissima America. È la grande causa, quella che ci ha fatto marciare, che ci ha fatto sognare, protestare di tutto. E il direttore gli ha risposto no, no, caro Terzani, te vai a Bergamo, ci riferisci di Bergamo con i piedi nel fango e la testa legata a una stellina. Lui questa risposta non l'ha tanto capita e si è licenziato dal giorno e è andato a cercarsi un lavoro in giro per l'Europa perché in Italia non lo trovava. E allora è andato prima a Manchester, al Manchester Guardian, poi è andato a Parigi, poi è andato alla fine è andato in Germania e lì c'era questo giornale, questo settimanale, Der Spiegel, di sinistra, è molto combattivo all'epoca e si è presentato così. Ha detto io sono fiorentino, so parlare l'inglese, so parlare un po' di cinese e voglio andare in Asia e voglio andare in Cina. La mia meta è la Cina però per il momento voglio andare in Vietnam. E questi qui che nel momento avevano avuto un grande successo nel combattere contro un ministro reazionario tedesco e avevano trionfato in questa causa, hanno detto ah divertente questo italiano, ma com'è che gli è venuto in mente? Insomma gli è perso un carattere da assumere e l'hanno preso. L'hanno preso e hanno detto allora vai parti, noi siamo partiti a nostre spese con i due bambini che avevamo già all'epoca, piccolissimi, uno e due anni e mezzo e siamo andati a Singapore perché siccome era tutto a nostre spese, Tiziano avrebbe solo collaborato con il giornale tedesco, dovevamo andare là dove costava poco e all'epoca costava poco Singapore. Oggi Singapore è una città più costosa del mondo e siamo arrivati lì e lui si è buttato nella guerra del Vietnam perché era questo che aveva voluto fare e però aveva 32, 32 anni, aveva lavorato all'Olivetti, non aveva un'idea di come si facesse il giornalismo e lì ha imparato dagli altri. Si è guardato intorno, in Vietnam c'erano i giornalisti più famosi dell'epoca perché era la guerra per gli americani più disastrosa, più pericolosa che avessero mai combattuto e noi europei eravamo tutti presenti, tutti schierati e Tiziano ha visto questi qui, ha visto come lavoravano, ha parlato anche dai colleghi italiani come Bernardo Valli e tanti altri e ha imparato sul posto. La cosa che lo ha subito distinto e che ha convinto il giornale tedesco a assumerlo entro sei o sette mesi, ne hanno fatto il loro corrispondente dall'Asia, era la sua curiosità umana anche, non erano solo i fatti, non erano solo chi ha vinto questa battaglia, chi ha perso quanti morti, quanti vivi, quanto questo, quanto quell'altro, era proprio una partecipazione profonda alla lotta di un popolo piccolo, in fondo di contadini senza scarpe, più contro questi americani super armati che volevano frenare l'avanzata del comunismo in Asia. Allora lui diceva va benissimo se questo è il vostro ideale, ma non ne avete il diritto, non avete il diritto di entrare nei paesi altrui a frenare chi che sia, hanno diritto i vietnamiti a decidere fra di loro. Per così è cominciato tutto un coinvolgimento politico, personale nella guerra che assolutamente non era l'unico, perfino gli americani, che poi i giornalisti americani sono quelli che sono riusciti veramente con le loro opposizioni, con il loro scrivere a costringere il presidente americano alla fine a fare la pace. Per cui la stampa aveva una grande forza all'epoca. E Tiziano si è ispirato a quella forza, si è immesso in quella forza, ha scritto con tutta la passione e in qualche senso, in qualche modo, si è fatto capire e rispettare, perché lo Spiegel poi lo ha tenuto per quasi 30 anni e ha aperto sette uffici di questo giornale in Asia, collaborando poi anche con la Repubblica, prima con la Repubblica, a lungo, alla fine con il Corriere della Sera e avendo così la possibilità di scrivere anche nella sua lingua, perché è molto, molto duro per chi scrive e non scrivere nella propria lingua. E Tiziano è sempre rimasto un po' deluso che nessuno, il giornale italiano non gli avesse fatto un'offerta, no? Ma non gliel'hanno fatta, però ne hanno approfittato lo stesso e poi alla fine amici come prima. Mi veniva in mente questa frase che in terziani torna sempre, che io questa vita me la sono un po' inventata, no? Ecco, quello che probabilmente manca a tanti della mia generazione è l'idea che il lavoro non arriva così, te lo devi anche un po' andare a... Spesso li vediamo come dei privilegiati, quelli che hanno fatto vite, come quella che ha fatto suo marito, poi in realtà vediamo appunto questa fame, questa spinta continua, questo muoversi, questo imparare le lingue, questo studiare, i primi articoli sull'astrolabio, cioè non è arrivato tutto da lì. Io non so se è connesso e se può apparire spiritualmente alle nostre spalle Folco Terzani. Ci senti, Folco? Mi sento benissimo, sì. Mi sentite? Sì. Noi ti sentiamo benissimo. Non l'ho detto prima, lo dico adesso, questa è anche, come dire, la scusa per presentare un libro che è uscito da poco, che è diverso da tutti e da nessuno, edito come sempre dall'editore di Terzani, che ha curato Angela Terzani, pieno di testimonianze e ricordi, in cui c'è un bellissimo scritto di Folco, di cui magari se vuoi, se ti va, ci puoi parlare. Certo. Ora? Beh, è il tuo momento. Domani. Allora, no, quello è bello, quella cosa. Cioè, dopo che è morto mio babbo, una cosa di cui parlava spesso era questo vecchio del Himalaya, per cui avevo la curiosità di conoscerlo, per cui dopo che è morto sono tornato, poco dopo che è morto, sono tornato dal Himalaya a incontrare questo vecchio. E mi sono portato con me delle foto di mio babbo nell'ultimo periodo. E era una cosa bellissima, perché sono andato, perché per andare a trovare lassù, che ci ero già andato una volta o due, era un viaggio lunghissimo intanto, no? Perché in quell'ultimo periodo non si riusciva a raggiungere il mio babbo, perché viveva su in questo posto, senza telefono, senza internet, senza niente. Per cui, per parlarci, quando ci volevo parlare, dovevo prima prendere l'aereo, andare in India, poi prendere il treno per andare in un'altra parte, poi l'autobus, poi alla fine l'ultimo pezzo, era un lungo pezzo a piedi attraverso il bosco, che faceva anche un po' paura che c'erano i leopardi lì, e per poi arrivare a questa casina in cima al monte, dove ci giravano questi due corvi, che lui chiamava sempre facendo... E c'era lui, c'era lui, questi due corvi, e poi c'era il vecchio, no? E allora sono tornato da questo vecchio per dire che mio babbo era finalmente morto e fargli vedere queste foto. Era molto interessante perché il vecchio ha preso tutte queste foto e non gli interessavano per nulla, proprio le scartava così, c'era l'Italia, proprio niente, niente. Poi c'era una foto della faccia di mio babbo dopo morto, e questa l'ha studiata a lunga e ha detto, ah, ce l'ha fatta, questa me la tengo io. E se ha preso quella foto e l'ha portata via, era interessantissimo come vedere quella faccia lì, gli ha detto qualcosa, infatti ha detto, e vediamo se ce la farò anch'io. E questo è un bellissimo modo di vedere la vita come un viaggio e questa ultima faccia come la scultura non più vivente, proprio la scultura che diventa il tuo corpo quando l'anima esce, diventa solo un corpo, e c'era questa espressione, questa espressione era bellissima, questa espressione dopo morto, c'era questa espressione come sovrana, di aver preso in mano la propria vita, di aver chiuso qualcosa. Infatti anche lì il vecchio la guardava, questa faccia, e poi non tantissimo dopo, non so, è morto anche il vecchio, che aveva parecchi anni più di mio papo, e pare che anche lui sia morto, cioè ha fatto questa bella fine, insomma, no? Perché anche lui non si sa mai come va a finire la fine, dove saremo e come sarà, però pare che alla fine lui abbia smesso di mangiare e poi anche lui è arrivato alla sua fine in questo modo tranquillo e sereno. Io ho una domanda che in parte sono un po' dalla risposta perché ne abbiamo parlato prima. Prima è venuta questa ragazza, che è lì tra il pubblico, che Angela Terziana ha detto, non mi avevano mai chiesto qual era il mio, il nostro rapporto con la fede. Lasciamo da parte un attimo questa cosa, invece concentriamoci tu, che genere di spiritualità ha trasmesso, o vi siete trasmessi reciprocamente in questa vita, che appunto Folco ci diceva, e poi alla fine è stata intesa come un viaggio, ma non come lo intendiamo normalmente, cioè da un punto A a un punto B, in cui poi tutto termina, ma come qualcosa di molto più profondo, di radicato, no? Chi ha letto il dialogo tra Folco e Tiziano Terzani vede davvero, come dire, una voglia di entrare all'interno della struttura delle cose, attraverso la natura, attraverso la montagna, attraverso il ripercorrere una vita, attraverso l'idea che appunto non c'è una fine o un inizio, ma c'è una specie di ciclo in cui tutto si tiene. Una cosa che per noi è molto difficile da capire, un po' anche per, come dire, anche la religiosità a cui normalmente siamo abituati, che è come se ci fosse sempre quasi un premio da ricevere. Rispondete entrambi un po' come volete, però secondo me è un argomento interessante. Tiziano era nato in una famiglia cattolica, sua mamma, diceva lui, era una basciapile e il babbo era comunista, per cui di religione lui non voleva tanto parlare in famiglia perché la mamma lo costrinse a servire messa a sei o sette anni e lui lo ha trovato terribile, è vestito da bambina, diceva mi veste da bambina e ha rifiutato sempre, proprio rifiutato anche nel pensiero del suo tempo, degli anni cinquanta, era il marxismo, era il materialismo socialista, comunista, non si parlava di spiritualità all'epoca. Però lui era legatissimo a un piccolo posto di montagna che si chiamava Orsigna dove i genitori lo portavano d'estate a fare le vacanze. Lui aveva un legame particolare che non si spiegava molto bene, ma era come una condizione che io capissi l'importanza e la bellezza dell'Orsigna che è un posto di pochissime case, tanti pastori e una chiesina, per lui non era possibile vivere insieme. Per me non era difficile e ho capito, ma solo col tempo e più che altro alla fine che in questa Orsigna, in questa valle, e nel contatto con i pastori si è formata la sua spiritualità, ma anche la sua religiosità, che era una religiosità che non ha a che fare con un Dio preciso, non è il Dio come ce lo raccontano a scuola e i nostri genitori, le mamme, è un Dio grande che governa questo mistero che è il mondo che è la terra e lui ha trovato lì nel contatto con la natura, con le pecore, con i pastori, i pastori, bisogna sapere, non me lo ricordavo neanch'io, ma i pastori sono stati i primi filosofi del mondo, i pastori che stanno sulle alture e hanno tempo perché le pecore pascolano e loro non hanno niente da fare fuori a stare con loro cane, a sorvegliarli, pensano, ragionano. C'è in Italia la poesia di di Leopardi, il canto di notturno di un pastore dell'Asia, cioè era già chiaro a tutti che questi sono i primi filosofi e Tiziano è in contatto con questi qui, con quello che loro gli raccontavano anche del passato, di quello che avevano imparato nel tempo e soprattutto in contatto con la natura, ha sviluppato questa meraviglia alla quale era già aperto, era come carattere aperto alla meraviglia, ma nella natura è diventata ancora più chiara e questa meraviglia che è una meraviglia davanti a un mistero che non ha mai cercato di svelare, di scoprire, ma che ha sentito forte prima come una sua cosa privata, come una sua un suo pulmone privato che lo ispirava e poi alla fine della sua vita come un mistero nel quale è riuscito a trovare le risposte alla domanda cosa, per che cosa vivo, come mai sono qui, come mai ci siamo tutti, una vita così breve di 60, 70, 80 anni e poi basta, poi scompariamo da dove veniamo, dove finiamo. Questa è stata la sua religiosità, riconoscere che, riconoscere questo mistero, queste domande che non si riescano a risolvere. Folco, in realtà magari la domanda per te è declinata in un modo lievemente diverso, però io ho questo ricordo di te che parli di tuo padre parlando del fatto che gli avevano dato questo premio Uomo per la Pace e tu ti arrabbi moltissimo, dici ma che Uomo per la Pace mi ha fatto fare le cose più incredibili, mi ha portato di notte a vedere gli insetti, mi svegliava, eccetera, però poi probabilmente alla fine di tutto questo quando il quadro è stato completo anche da lì è derivata una qualche forma di spiritualità in qualche senso, questo anche comunque quella volta ho riso molto quando l'hai raccontato perché era un ricordo che non arrivava leggendo i libri e quindi declina come vuoi la risposta, però mi piaceva darti questo stimolo. ma sulla Pace era un uomo talmente forte che era strana la Pace però le cose sono sempre così un po' agli opposti cioè uno può pensare anche a Madre Teresa mistica invece era pratica in una maniera incredibile e Gandhi la Pace invece era c'era una decisione una forza interiore incredibile secondo me ha esaurito gli inglesi non ne potevano più della forza di questo piccolo uomino e se ne sono andati per cui è un po' così sempre la cosa per cui sì la Pace era una manifestazione di una grande forza non è una Pace di quelle da dire oh tutto tranquilli ragazzi dai stiamo qui a suonare la chiara non era per nulla quel tipo di Pace lì di stare tranquilli era una cosa estremamente attiva e sempre in movimento per cui per quello che all'inizio mi sorprendeva questa definizione perché quello che veniva di più era questa tormenta questa tempesta continuo questa forza della natura no? cioè a noi ci ha portato infatti i ricordi spirituali certo c'erano i templi e le cose del genere però non è che interessava mai quella roba lì mi sembrava però c'è arrivato quella è la cosa interessante cioè facendo un viaggio che non non passava tanto dalle cose spirituali è arrivato alle domande spirituali cioè attraverso la politica e le lotte dell'uomo è arrivato a pensare alla spiritualità e quello mi è piaciuto perché era un percorso talmente naturale talmente dentro alle cose no? trovo anche la figura del giornalista è divertente perché siccome qualcuno che deve viaggiare per conoscere è quasi un ruolo molto adatto per uno che vuole sapere cos'è il mondo e alla fine appunto smettere di fare il giornalista e diventare il perennialista e pensare alle cose eterne no? prima in India come tuttora ci sono gli uomini che lasciano tutto e camminano a piedi per tutto il subcontinente dal fondo dove c'è il mare fino alle cime dell'Himalaya no? e percorrono tutto il paese a piedi ecco mi sembra che lui ha percorso un po' il mondo non a piedi ma facendo il giornalista andando a vedere le cose per poi farsi le domande e questa era un bel ma era una bella situazione quella di di girare per il mondo con quell'ottica lì ecco per cui chiunque lo può fare non è che devi avere un ruolo preciso non è che devi essere un prete per capire la spiritualità devi essere un uomo una donna curioso che viaggia che guarda che che vede diversi tipi di situazioni e poi viene un po' da sé la cosa immagino dopo un po' le domande vengono da sole non è che devi formularle poi in un modo particolare cioè io mi ricordo spesso io leggevo testi spirituali e lui proprio no poi alla fine ha incominciato un po' a leggere quella roba ma non tantissimo devo dire era più basato sui fatti del mondo che sulle teorie che erano venute prima perché io non so quando attacco e stacco scusate ho due domande però cerco di gestirle così perché in realtà è una valanga di curiosità e non voglio trasformarla nelle mie curiosità questo incontro io ho l'impressione che ultimamente allora nelle persone che hanno anche soltanto la mia età io l'ho visto i miei studenti all'università sono poco più giovane di me 4-5 anni più giovane di me e io ho chiesto se sapevano chi fosse Tiziano Terzani considerate un campione di un cento studenti e due o tre hanno alzato la mano e la cosa mi ha abbastanza rattristato dico la verità e di questi due o tre più o meno me l'hanno descritto come un mistico quasi nessuno sapeva che era un giornalista devo dire che mi è venuta una profonda tristezza dico la verità perché un uomo così centrale secondo me nella storia italiana contemporanea ragazzi di 21-22 anni che non avevano idea di chi fosse è triste e quando si ricorda spesso Terzani lo si fa come dire celebrandolo ma senza invece utilizzare anche le cose molto scomode il portato di verità che lui ci ha dato l'abbiamo visto ultimamente con quello che sta succedendo ovviamente col terrorismo internazionale che chiunque di voi utilizzi un social network avrà visto in continuazione attraversarsi la bacheca da quella famosa lettera di Oriana Fallaci in cui la sua strategia è una strategia di guerra nei confronti di quello che sarebbe avvenuto di lì a poco la rottura tra Terzani e la Fallaci che in realtà c'era sempre stata lui la chiamava la mia innominabile concittadina è stata l'11 settembre quel momento in cui come dire la divisione centrale tra due visioni del mondo si è anche tradotta in queste cose e prima ne parlavo con Angela dicevo al di là dei metodi che bisogna trovare editoriali come dire anche di ritraduzione in linguaggi diversi probabilmente di quello che è stato il lavoro profondo di giornalista di Tiziano Terzani qual è la funzione cioè cercare di capire che quest'uomo aveva detto delle cose che poi si sono verificate e aveva invece offerto dei metodi che non sono stati utilizzati per esempio quando c'è una intervista che gli fanno su un pulmino che credo fosse in Afghanistan non lo so e a un certo punto gli dicono ma davvero secondo te dobbiamo andare a parlare con i terroristi ma smettila ma che cosa dobbiamo fare una roba del genere lui dice io non ho detto proprio questo ho detto una cosa più profonda ho detto che dobbiamo cercare di capire le altre culture prima di come dire di giudicarle e oggi una roba del genere non si può dire perché ti dicono vabbè vuoi parlare con i violenti che cosa pensate voi di questo perché immagino che voi come dire anche come famiglia di quest'uomo l'abbiate visto molto più di me questa dimenticanza di alcune delle cose centrali della sua vita e che dei ragazzi di vent'anni non sappiano che ti siano terzi anni italiani è abbastanza triste secondo me non sono del tutto d'accordo con te che non lo sanno ci sono molti molti ci sono incredibili un nome incredibile di scuole che è stato dedicato a lui di parchi che sono stati dedicati a lui c'è stata un'attenzione incredibile e sono tredici anni che è morto e non e non finisce questa attenzione c'è sono d'accordo lui non è nelle prime file delle librerie come la fallaci perché queste sono questioni da decidere dagli editori se un editore decide che non vuole giocare questa carta forte è affare suo io ho cercato di convincerlo ma lui non vuole comunque Tiziano si fa ha fatto strada anche molto fra i giovani che non alcuni erano appena all'asilo quando è morto perché in qualche modo ha delle rispettive risposte si dice che oggi non ci sono più delle risposte non abbiamo più delle risposte non abbiamo né delle istanze religiose né delle istanze politiche non abbiamo non ci sono personaggi che ci danno una risposta che dicono adesso di fronte a Trump che vuole attaccare quell'altro coreano insomma davanti a questa faccenda cosa si fa non c'è nessuno che parli all'epoca nostra quando eravamo giovani c'era Berchand Jussle c'era Sartre c'era tanta gente che dava delle idee adesso non c'è più nessuno che parli quindi chi resta in qualche modo è Tiziano che ha cercato davanti al conflitto che si profilava nel 2001 uno o due dopo le lettere dopo le come si chiama le torri gemelle con le sue lettere contro la guerra ha cercato di dare un'indicazione ha detto ma bisogna anche capire le ragioni degli altri no voglio dire bisogna capire come mai questi qui sono disposti a perdere la vita a immolare se stessi come dei kamikaze per una causa che a noi ci sembra solo aggressiva non è solo questo è anche legato molto al risentimento musulmano arabo contro le nostre politiche di non dico ora soltanto ma di cento anni almeno bisogna cominciare a capire e non condannare subito gli altri come dire come ha detto la fallaci bisogna eliminare la fede musulmana dal mondo ma cosa vuoi fare anche questo che consiglio è Tiziano in fondo ha indicato una strada che mi sembra mi sembra interessante anche proprio dal punto di vista personale diceva beh allora andrò a vedere andrò a informarmi leggerò cercherò di capire che certamente un metodo lui non ha mai detto prendete il fucile e arruolatovi nella guerra santa contro i musulmani mai detto ha detto cercate di capire se uno cercasse se anche i politici cercassero di essere un minimo segno di interesse questo sarebbe già molto incoraggiante in questo senso tu dici come famiglia noi sì come famiglia questo sono argomenti che naturalmente convincono e poi siccome abbiamo viaggiato molto con lui anche per noi è stato molto interessante vivere questa esperienza senza altro questo è quello che lui questa apertura insomma bisogna dirlo lui la cosa che più temeva è la violenza non è che è nato pacifista Tiziano non è che lui è nato pacifista che è veramente un'utopia delle più difficili perfino grandi a durato fatica no? non è che uno diventa dice viva la pace ed eccoci la pace non è così bisogna cambiarci dal profondo e infatti la conclusione alla quale Tiziano alla fine è arrivato è che adesso o combattiamo quello che di brutto è noi la nostra invidia la gelosia l'ingordigia tutte queste cose che lui elenca o le combattiamo anche la nostra violenza interiore o non si arriva a nessuna soluzione pacifica ha capito che è questo che è noi comunque è un modo per vedere il mondo meno aggressivo perché con l'aggressività e lui aveva molta paura molta paura soprattutto delle armi di distruzione di massa e ce l'abbiamo nelle mani non solo l'abbiamo nelle mani noi che possiamo ancora controllarci ma ce l'hanno anche personaggi come Trump e come il coreano pericolosissimi per cui diceva andateci piano e il fatto che non ci siano andati piani né noi occidentali né gli americani adesso oggi a lui da Cassandra che si sentiva buttava male aveva veramente molto si preoccupava molto del nostro futuro e noi che siamo qui a verificare in qualche modo non possiamo che dargli ragione non ti pare? anche per chi ha letto i libri ha visto documentari cercato di stare un po' all'interno di questa lunga storia che rappresentate spesso la seconda parte della storia ha come dire preso il sopravvento rispetto alla prima cioè al lavoro da cronista e di giornalista era questa la domanda e come dire anche per voi viene gestita questa cosa cioè quando ricordate Tiziano Terzani in che modo riuscite a far comprendere quanto è stato importante essere stato il giornalista che è stato prima di diventare poi l'uomo anche spirituale che è diventato beh allora prima di tutto bisogna infatti ricordarsi che prima non erano violento cioè non c'è verso se uno vede anche come quando era in Vietnam in fondo era contro gli americani non era per mandarli fuori e anche come persona non era una persona non violenta cioè lui era una personalità come si diceva all'inizio fortissima per cui c'è anche il suo capo al giornale in Germania avevano paura di lui perché quando si arrabbiava era un'esplosione totale no? è quello la non violenza è quello però alla fine ha usato quell'esplosione totale per cercare di fare la battaglia con se stesso e lì è dove è stato veramente interessante vedere quella trasformazione però non è che era nato non violento ma per nulla cioè non c'entrava nemmeno nel suo modo di pensare mentre verso la fine era veramente interessato a quella cosa cioè anche se è difficilissima diceva questa è l'unica via infatti si studiava c'aveva tutti i volumi delle scritte di Gandhi una cosa enorme era veramente interessato a quel pensiero alla resistenza passiva anche multinazionali ci pensava a queste cose come si fa a contrastare queste enormi potenze anche economiche e pensava alla rinuncia come modo di contrastare perché non è che la cosa classica è la sede butti giù la sede distruggi tutto e invece in verità quello che devi fare è rinunciare alle cose che ti propongono e se tutti ci rinunciano non hanno più niente da vendere e ti vengono giù gli viene meno potere alla cosa come il vecchio detto se ci sono due lupi dentro di te uno vuole più cattivo quale vince è quello a cui gli dai da mangiare per cui la cosa a cui dai da mangiare quella cresce e allora anche in questi contrasti alle cose forti incominciava a ragionare pensando che alla fine devi combattere quella cosa dentro a te stesso se che è inutile andare contro la sede di un posto di potere ma te ti sottrai da quella cosa e allora ti sottrai anche dai benefici di quella cosa e questo era il pensiero di Gandhi cioè il pensiero di Gandhi è bellissimo è veramente va studiato è interessantissimo e lui c'era entrato molto dentro ma come dico questo è nell'ultima parte della sua vita non è la prima parte della sua vita per cui c'è questo percorso questo infatti anche alla fine quando si parlava gli chiedevo ma cosa faresti se fosse rimasto ancora cosa avrebbe fatto e l'unica cosa gli veniva in mente era andare avanti con la pace con il movimento della pace e con la pace e col lavoro dentro a se stesso questo era proprio era chiaro in lui alla fine che la vera battaglia era con se stesso io ho questo ricordo molto bello a me non so forse sono troppo sentimentale però mi commuovo sempre che c'è questa frase che lei racconta in cui chiede a Tiziano cosa sarebbe successo cosa avremmo fatto se tu fossi stato ancora qui e lui risponde avrei continuato a viaggiare e ti avrei portata con me che a me è sempre sembrata una frase di una bellezza straordinaria e vorrei fare un'ultimissima domanda perché così loro possano poi farvi domande e io mi faccio un po' più piccolo ed è al di là del Tiziano Terzani personaggio che è quello che conosciamo noi con cui uno si può affezionare quanto vuole però non l'ha toccato non l'ha visto che cosa le manca di suo marito varie cose no ma volevo dire la domanda cosa avresti fatto se avessi ancora tempo no se fossi glielo ho chiesto anch'io e lui mi ha risposto mi sarei battuto per l'Europa perché è vero che fra tutto quello che osserviamo in Asia e questo tentativo di uscire da un'antica povertà e anche di insomma il tentativo dell'Asia di mettersi al passo del nostro occidente è un percorso molto faticoso molto duro per loro che costa una fatica pazzesca di cui noi già conosciamo il prezzo lo stiamo noi l'abbiamo fatto e lo stiamo pagando l'America ha perso anche l'America la sua vocazione voglio dire resta l'Europa e sarà meglio che l'Europa se ne renda conto Tiziano già dai 13 anni fa se ne era reso conto che questa sarebbe la nostra grande chance di tirare fuori un po' delle nostre capacità che abbiamo dimostrato nei secoli di riflettere anche di trovare soluzioni per cui sarebbe importante oggi che ci fosse questa 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 consapevolezza allora però non voglio evadere la tua domanda cosa mi domanda cosa mi manca di più che cosa manca manca direi molto il coraggio che Tiziano ha avuto mi manca a me mi manca nella vita quotidiana no il coraggio morale ma anche il coraggio più che morale anche di di impegnarsi di persona di rischiare di persona di di dire anche quello che non è politicamente corretto che a me mi sembra una schiavitù insopportabile questa del del politicamente corretto che sa chi l'ha inventato però siamo tutti lì a non dire mai esattamente non troppo per non ferire eccetera però le cose vanno discusse allora Tiziano non conosceva quello che innanzitutto almeno da un punto di vista della sinistra non era in Tiziano politicamente corretto era la sua il suo interesse per la spiritualità questo dalla sinistra e da molti giornali da molti intellettuali è stato bollato come per questo è stato bollato come un santone dell'Imolaia quel bravissimo giornalista che alla fine è diventato un santone dell'Imolaia mi chiedono se è diventato buddista se è diventato induista ma nemmeno per idea è come all'inizio aveva detto era un fiorentino scettico razionale che cercava di capire come stavano veramente le cose e nella sua nel suo tentativo di trovare qualche alleato qualche risposta nel mondo alla sua ricerca appunto della spiritualità che nel materialismo prima storico marxista e poi anche nostro occidentale capitalista è naufragata e in questa sua ricerca lui si è rivolto alla religiosità e alla spiritualità asiatica e lì ha trovato molte molte risposte anche addirittura tecniche come quella della respirazione dello yoga tante cose che aiutano l'uomo e che noi non abbiamo infatti le abbiamo prese ha trovato proprio un'apertura mentale che lo ha aiutato molto a rispondere al proprio problema del momento che era la malattia e la previsione della morte però per questo e per scriverne come già scrivendo un indovino mi disse nel 93 non ricordo mai quando l'ha scritto ci voleva coraggio ci voleva coraggio perché davvero era facile essere bollato a quell'epoca come un farfallone un pazzerello che si rivolge a questi problemi invece la cosa interessante è parlando prima della spiritualità attraverso l'indovino l'esistenza di queste domande che i popoli si sono persi sempre nel mondo e secondo dopo con il libro un altro giro di giostra in cui descrive in cui parla della morte di cui bisogna dire non si parlava io mi ricordo che quando passava un carro da morto tutti a fare corna come dire oddio non parliamo non pensiamoci neanche no ha tirato fuori dal dimenticatoio un tema centrale nella nostra vita perché l'unica cosa di cui possiamo essere sicuri è che si muore per cui perché non se ne parla perché non se ne parla e questo devo dire è stato Tiziano a metterlo sul tappeto è stato incoraggiante il modo in cui ne ha parlato perché questa era la cosa in fondo bella di lui vedeva problemi giganteschi terribili e infatti negli ultimi vent'anni della sua vita è stato profondamente spesso depresso poi altre volte si è ritirato ma proprio vedeva buio ma in quello che ha scritto non c'era mai il buio in quello che ne ha scritto c'era sempre un incoraggiamento e questo fatto infatti poi lo ha fatto accettare dal grande pubblico questo questo fatto che introduceva nuovi argomenti come quelli appunto delle domande sullo spirito sulla propria vivenza e quelle altre sulla morte che in fondo erano necessarie avevamo bisogno di porcerle non si va avanti se no si va in un vicolo cieco si muore disperati e invece come dire oddio oddio vorrei vivere un altro giorno ancora invece Tiziano è riuscito attraverso questo devo dire è riuscito con enorme difficoltà e dico anche non sempre non sempre per niente però generalmente ad almeno voler accettare la sua morte non è riuscito del tutto non è facile non è facile quando uno vede la vita davanti e dire va bene vi tocca morire non è così che si dice però ha cercato ha voluto e questo lo ha impegnato in un modo molto per lui interessante gli ha dato l'impressione di aver concluso di essere riuscito a concludere la sua vita non in maniera disperata ma in un maniera insomma come si dice responsabile responsabile verso se stesso e verso il grande problema della vita e della morte che tutti ognuno di noi ha davanti che